Ben ritrovati a tutti i nostri amici in ascolto o in visione con i nostri consueti approfondimenti per la medicina Regione Lazio dove in ogni puntata ospitiamo medici filo scientifico, il nostro iter di questa chiacchierata che andremo a fare e oggi in compagnia di uno psicologo parlando della psicologia faremo un breve ma interessantissimo focus sulla correlazione tra disturbi d'ansia e depressione con noi il dottor Andrea Brizzi, salve e bentrovato Salve a tutti e bentrovati a tutti quanti Grazie per averci raggiunto nei nostri studi qui a Live Social come dicevo per gli approfondimenti della medicina Regione Lazio quindi partiamo subito e dottore le chiedo un attimino il suo iter quantomeno accademico per dare un'entità alla professione Io molto semplicemente mi sono laureato alla Sapienza come psicologo clinico e da lì ho effettuato tutta la mia esperienza prima come psicologo dentro una comunità per pazienti borderline e poi con attività di studio e attualmente oltre a portare avanti la mia attività di studio privato Io mi occupo del reinserimento sociale e abitativo di alcuni dei pazienti psichiatrici della ASL della RM6 quindi Castelli Romani e dintorni Pomezia, Anzio, Nettuno eccetera Bene, ecco addentrandoci in quella che poi è la tematica che andremo ad affrontare oggi con il focus ma è anche una delle dinamiche più consuete e le quali si trova a trattare più nel quotidiano quindi la correlazione fra disturbi d'ansia e la depressione ecco spieghiamo un attimino perché spesso poi si sente dire forse anche per luogo comune c'ho l'ansia, ho l'ansia sono depresso e c'ho l'ansia e infatti magari sono anche termini usati senza il giusto peso, no? sì spieghiamo sì perché innanzitutto ansia e depressione spessissimo si ritrovano insieme perché una può aiutare l'altra ad aumentare e invalidare la vita delle persone però di loro sono due cose a sé stanti tant'è che l'ansia ci viene subito in mente una superattivazione fisica mentre la depressione è proprio totalmente il contrario in realtà l'ansia non è una cosa negativa di per sé è un allarme, è una sorta di reminder l'abbiamo sviluppata ancestralmente per salvarci da situazioni di pericolo e infatti c'è tutta l'attivazione fisica il sangue va verso le mani, verso le gambe, verso gli arti per reagire ad un pericolo imminente nel mondo di oggi invece la utilizziamo per un esame importante dobbiamo essere attivi quindi anche un po' in tensione però attivi per fare una prestazione che sia degna della nostra preparazione nel caso di un esame il problema è quando diventa invalidante per il quotidiano quindi nei rapporti di tutti i giorni nei rapporti familiari, di lavoro, sociali lì però parliamo di un'ansia che non c'è per una specifica situazione e non ha un motivo specifico è un'ansia che ci invalida e senza un particolare perché e quindi ci tiene il corpo in tensione, muscolare, respiratorio ci può portare ad isolarci ci può fare a livello corporeo tante cose anche a livello psicologico che non ci consentono di portare avanti normalmente la nostra vita stessa cosa la depressione quante volte siamo tristi? la tristezza è normale, ci serve per elaborare ecco, è fisiologico è fisiologico essere triste è normale ottima info, passata ai minuti mi preoccupa chi non è triste lo gli dà di tanto in tanto la depressione invece è una situazione in cui sì, c'è un lotto ma non si reagisce lotto inteso come sì perdita di un familiare perdita di una separazione, un divorzio un terremoto una calamità naturale una pandemia tanto per dirne una però bisogna reagire non si può rimanere passivi alla cosa quando è che è depressione e diventa patologica? quando anche questa va ad incidere costantemente nella vita di tutti i giorni di un individuo e a quel punto si innescano varie tipologie di sintomatologie come ad esempio la perdita del sonno, la perdita dell'appetito la perdita dell'interesse nello stimolo l'uscire fuori di casa per essere stimolato da un bel film un teatro, un bel tramonto o la vita sociale di tutti i giorni viene con sé che mettendo insieme queste due cose spesso, pur essendo quasi sembrano opposte una butta giù, l'altra invece è iperattiva ci hanno delle sintomatologie simili una persona ad esempio che è un buon gustaglio che per ansia ha una castrite una castrite nervosa può andare in depressione perché non è più stimolato dal piacere del cibo questo è uno dei tanti esempi che potrebbero essere presi in considerazione però ecco, le chiedo dottore ovviamente ambe due le situazioni più o meno gravi che siano sia ansia che depressione possono essere anzi, devono essere trattate appunto con una terapia magari presso il suo o uno studio di un suo collega ecco, affine alla tematica il decorso credo sia questo innanzitutto valutare se ansia o depressione in questo caso parliamo di correlazione quindi se l'una ha anche sviluppato l'altra perché se ho paura di uscire di casa poi diventerò depresso quindi a volte all'ansia ci arriva pure la depressione oppure se siccome sono depresso ho paura di uscire di casa è un circolo vizioso che però la cosa positiva è che se uno comincia a intervenire e se una migliora, migliora anche l'altra quindi può diventare anche virtuoso il decorso per tornare sul tema per affrontarla la cosa migliore è innanzitutto valutare quanto la situazione si protrae se cominciano ad essere 3-6 mesi che non si esce da una costante situazione di ansia e di depressione o dell'uno o dell'altro bisogna iniziare a rivolgersi a una persona quindi deve invalidare la vita di tutti i giorni io consiglio sempre psicologo, psicoterapeuta si comincia da lì si valuta insieme al professionista con cui ci si trova a proprio agio la situazione e a quel punto si decide come andare avanti personalmente consiglio un tipo di percorso più profondo e più dinamico che va proprio al nocciolo della questione ma poi ognuno ha le sue esigenze e fa le sue scelte e a quel punto insieme al proprio terapeuta si decide se è talmente invalidante la situazione che si può andare anche magari con qualche piccolo farmaco un aiuto temporaneo di concerto con uno psichiatra con un collega psichiatra a permettere alla persona di poter convivere con il momento acuto del disturbo per poi fare un lavoro emotivo che porta alla risoluzione e quindi anche all'abbandono del farmaco benissimo beh io nel ringraziarla per il suo intervento a portata ai nostri microfoni con gli approfondimenti per la medicina regione Lazio dare tutti i suoi contatti quindi ricordo a tutti i nostri amici che ci seguono il dottore Andrea Brizzi con studio riceve in via Ettore Novelli 8 a Velletri vi lasciamo un contatto telefonico 334 9571223 e nonché un dot.andrea.brizzi chiocciolagmail.com come mail di contatto grazie mille dottore per l'intervento grazie a voi è stato un piacere e ringrazio anche a voi per averci seguito e ci vediamo al prossimo approfondimento grazie ancora